Finalmente si sono sposati Daniele Bossari e Filippa Lagerbacchi. Le immagini più belle della cerimonia condivise sui social più qualche curiosità. . Finalmente si sono sposati Daniele Bossari e Filippa Lagerbacchi, dopo 17 anni insieme, una bellissima figlia oggi 15enne, una crisi superata e una romantica proposta di matrimonio nella casa del grande fratello Vipi, di cui il conduttore ha vinto l'ultima edizione nel 2017. . Inizialmente la data delle nozze, avrebbe dovuto essere l'8 giugno del 2018, come annunciato dallo stesso Daniele e ospite alla trasmissione 90 special di Nicola Savino, poi, però, i due avevano deciso di anticiparla al primo giorno del mese, nel tardo pomeriggio. La futura sposa, in questi mesi, aveva documentato la preparazione della cerimonia da parte del famoso wedding planner Enzo Miccio con alcuni scatti su Instagram, perciò era naturale che postasse una foto anche poco prima dell'evento. . L'immagine postata dalla sposa Filippa Lagerbacchi ha postato la fotografia di uno scorcio del giardino, dove avrebbe dovuto svolgersi la cerimonia, alle secolari ville Ponti di Varese, e su un sentiero le scarpe da indossare, con a fianco un bel buchè di fiori bianchi e rosa. Dello stesso colore, ma molto più pallido, le calzature, con sopra dei fiorellini. In bella vista una margherita, fiore preferito di Daniele, come spiega Filippa nella didascalia, accompagnata da un cuoricino. . Il presentatore ne aveva sfoggiata una all'occhiello anche nella serata finale del grande fratello Vip. . 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 È arrivata al successo in Italia come partner di Raoua Ubova nel film di Carlo Vanzina Piccolo Grande Amore, 1993. L'avevamo vista tra l'altro nella mitica sitcom Casa Vianello, con protagonisti i compianti Sandra e Raimondo. A celebrare l'amore tra Chilippa e Daniele, tuttavia, non c'erano solo ospiti umani, ma persino il loro fedele cuoker spaniel di nome Vicky, del quale il presentatore aveva parlato con nostalgia al grande fratello Vip. .